Affrontiamo il caso Aligroup, siamo con il signor Vinci Paolo, spieghiamo un attimino qual è la vostra situazione. Buongiorno, noi siamo riuniti qua in questo bar ad affrontare questo argomento visto che è considerato la situazione in cui ci ritroviamo. Eravamo a Siracusa, referente dell'azienda Aligroup in un supermercato medio e ora ci ritroviamo da due mesi a questa parte in una situazione catastrofica dall'oggi a domani. Che tipo di contratto avevate? Noi facevamo parte dell'azienda Aligroup, la maggior parte dei nostri colleghi avevamo contratto full time a tempo pieno, esperti nel settore, nelle vendite. Da quanto tempo lavoravate? Allora noi a Siracusa rappresentavamo l'azienda Aligroup da quasi otto anni più avevamo altre esperienze in precedenza. Ora ci stiamo trovando in una situazione molto strana e catastrofica come le ripetevo perché dall'oggi a domani a chi eravamo persone normalissime e tranquille come la maggior parte dei cittadini stiamo vivendo questa situazione che ci ha messo in grave disagio le nostre famiglie e tutto quello che ci può sostenere in una vita normalissima. Non avete punti di riferimento in questo senso? Oggi come oggi siamo abbandonati da Dio e dal mondo che in Italia le restituazioni sono un po' non lo so che dire Qui a Siracusa non si è mosso niente? A Siracusa diciamo per propria interesse è ritornato il Carrefour che ha ricoperto la sua superficie, ha ripreso il suo vecchio personale Quindi in questo senso voi siete stati sostituiti? No, no, noi facciamo parte dell'Aligroup Il Carrefour è ritornato, ha ripreso il suo punto vendita per rilanciare il suo punto vendita Noi come azienda Aligroup siamo rimasti come punti medi e piccoli nella zona di Siracusa, noi di Siracusa, di Corso Umberto e poi un piccolo supermercato a Francofonde ce n'era uno a Pachino, non so se hanno concluso la trattativa e l'hanno venduto o ancora c'è una trattativa in corso e poi il giardino di Aula, il centro commerciale che c'è ad Aula ancora è tutto da verificare per quanto riguarda il rinnovo il rinnovo diciamo di quella vendita là Noi quelli che attualmente siamo proprio col punto interlocutivo a Siracusa, città e provincia siamo Siracusa, Corso Umberto e Francofonde Come vi gestite giornalmente, mensilmente? Voi avete delle famiglie? Purtroppo come la maggior parte degli italiani del sud non è che tutti hanno un doppio lavoro, un triplo lavoro qua la maggior parte del sud Italia come le ben sa sono la maggior parte a monoreddito e anche noi facciamo parte di questa categoria di famiglie a monoreddito che vivevamo dignitosamente anche nel nostro piccolo però ora siamo abbastanza in difficoltà visto che è considerato che da settembre a questa parte a posto di prendere il nostro stipendio normalissimo come prendavamo ci hanno dato degli acconti di un 25% addirittura ora addirittura zero da dicembre che non percepiamo più tranne ieri che hanno dato una piccola tranche di 100 euro noi siamo ancora indietro di stipendi dobbiamo prendere due mesi e mezzo di stipendi ieri ci hanno accreditato la media di 100 euro a testa a famiglia pensi un po' una cifra abbastanza modestissima avete fatto appello a qualcuno in qualche modo? ci siamo rivolti tramite i sindacati alla prefettura per accelerare la pratica della cassa integrazione poi qua in questo bar che frequento tramite i nostri colleghi c'era stato anche l'amico Strazzulla che aveva cercato di indicarci una soluzione che noi non sapevamo che ci poteva essere qualche qualche sussidio straordinario da parte del comune su questi casi particolari non per assistenzialismo perché noi non vogliamo assistenzialismo proprio da nessuno però in questa situazione che non percepiamo salario da quasi 4 mesi e siamo ridotti un po' malmessi i nostri piccoli risparmio se non sono dovuti andare a farsi benedire perché una volta che i soldi non ne entro se tu nella tuta vita precedente hai fatto qualche risparmio è andato a farsi benedire purtroppo l'Italia è questa non ho parole per quanto riguarda ovviamente avete perso la fiducia noi abbiamo perso l'identità la fiducia, la speranza ormai siamo abbandonati a noi stessi cosa vi ho spiegato? io penso che in una nazione civile come ci sono la Germania, l'Austria, l'Olanda in quei paesi là quando una persona rimane in mezzo a un problema del genere c'è qualche piccolo spiraglio che lo Stato aiuta i cittadini a sopravvivere a quell'emergenza ma qua quando vedo in Italia è solo un abbandono diciamo alla proprietà disgrazia che possa avere una persona e basta non c'è riferimento perché non metto riferimento perché se devo aspettare in uno Stato di diritto che io per mangiare devo aspettare ancora due mesi e mezzo di arretrati di stipendi e la cassa integrazione che ancora deve essere firmata a Roma la devo prendere fra sei mesi io non penso che noi colleghi qua che siamo in 14 famiglie possiamo aspettare otto mesi per avere a vedere la cassa integrazione arriva dopo sei mesi già noi dal settembre percepiamo minimi acconti di salario io non metto tutte noi come possiamo resistere un anno senza senza avere soldi non ho idea non mi posso diciamo siamo veramente viviamo una situazione nota precaria non ci sono parole un piccolo passo verso la soluzione del problema quale potrebbe essere? la soluzione del problema aspetta la soluzione del problema è che dobbiamo trovare cioè devono trovare subito un acquirente per il nostro punto vendita perché siamo proprio cioè ormai non possiamo campare più facciamo debito ovunque dal bar dal dal fornaio dal macellaio per pagare le bollette della luce non sappiamo più come dobbiamo fare il telefono che oltretutto ci dovrebbe aiutare il comune a meno a pagare le bollette ci hanno fatto la negativa ci hanno detto non se ne parla proprio addirittura abbiamo chiesto un sussidio ci hanno detto se evitiamo sì o no due trecento euro fra un anno quindi noi dobbiamo mangiare fra un anno secondo il comune poi siamo messi veramente male troppo male non c'è nessuno che viene qui da voi a parlarvi a cercare di trovare una soluzione no non c'è nessuno ormai ci hanno abbandonato perché una volta che hanno sistemato i 102 dei papiri si sono dimenticati di noi voi vi riunite qui tutte le mattine sì siamo qua tutte le mattine passiamo un paio d'ore ragioniamo fra di noi aspettiamo notizie tramite facebook tramite giornali perché neanche l'azienda ormai anche che telefoniamo all'azienda non risponde nessuno ora ci hanno pagato una trancia di dicembre il 25% di otto giorni cioè significa che c'è chi ha preso 20 euro e chi ha preso 100 euro questo sarebbe il nostro stipendio praticamente è impossibile gestire le spese di casa come? praticamente è impossibile gestire le spese di casa ma non si possono gestire io personalmente devo pagare tre mesi di affitto la luce mi stanno da circa circa 750 euro cioè non so come devo fare sono monoreddito dicevate siete circa 14 famiglie con tutti i convigli siamo 13 famiglie a Siracusa e altre 4 famiglie o 5 famiglie a Francofonte ma non ci pensa nessuno cioè non abbiamo aiuto né dal commissario straordinario né dai consiglieri comunali si sta interessando solo il presidente del quartiere Paolo Strazzulla ma anzi lo dobbiamo anche ringraziare ma però perché ci ha portato lui ci hanno fatto anche la negativa perché soldi a Siracusa non ce n'è servono solo per mangiare perché i soldi devono mangiare loro perché loro poi si devono fare le ville e queste cose qua è un problema regionale o secondo me nazionale? secondo me è nazionale però in Sicilia è particolare se lei potesse fare un appello ma io l'appello lo potrei fare al presidente Crocetta che spero spero che risolva la nostra situazione anche se è un'azienda privata e so che loro non possono fare tante altre cose però almeno il tribunale di Catania di svincolare i nostri stipendi che sono messi là che loro hanno circa 10 milioni di euro conservati non ce li vogliono dare oppure di sbloccare la cassa integrazione che ancora da tre mesi a questa parte non l'abbiamo percepita io ho 29 anni quanto tempo lavoravi? dal 2006 fortunatamente io ancora abito con i miei ho dovuto sospendere solo il mutuo che non riesco più a pagare logicamente diciamo mi ritengo tra i più fortunati in questa situazione in questo senso però non potrei costruirsi un futuro per quanto ti riguarda cosa pensi? certo con i soldi della cassa integrazione purtroppo non si va avanti non si può costruire un futuro non si può pagare più la casa non si può costruire una famiglia è abbastanza difficile andare avanti anche a mantenersi le proprie cose come pensi di muoverti? cercare di fare qualche colloquio di lavoro? attualmente colloqui di lavoro penso che siano inesistenti in Siracusa in Sicilia e ovunque uno vada aspettiamo nuovi sviluppi e vediamo se qualcuno si è interessato al nostro suo mercato e cercare di rientrare tutti assieme in questa grande famiglia in cui ci trovavamo se anche tu potessi fare un appello a chi lo faresti e cosa diresti? un appello andrebbe come ha detto il mio collega al Tribunale di Catania per sbloccare i nostri soldi lavorati allo Stato per sbloccare i soldi della Cassa Indecrezione purtroppo di aria non si campa abbiamo bisogno del nostro sussidio per andare avanti e non abbiamo altra scelta cosa dicono in famiglia i tuoi? i miei i miei mi sorridono perché diciamo qualche anno fa non si potevano mai aspettare una cosa del genere da parte di una grossa società in quale era l'Ali Group e attualmente mi trovo a casa e non hanno neanche il coraggio di mi vattene a cercare un lavoro perché tanto è inutile insistere su certe cose su certi argomenti che non hanno concretezza avete avuto preavviso? Preavviso nell'aria si sentiva già qualcosa a tempo addietro però non si sarebbe mai immaginato di arrivare fino a fino a questo punto dall'arrivo dal non arrivo delle merci al pagamento frazionato degli stipendi da tutte queste piccole cose si avvertiva qualcosa nell'aria ma non potevamo mai pensare che finisse così Alessandro la tua situazione è diversa? Sì ad oggi possiamo dire che è totalmente diversa dai miei colleghi del punto vendita ex delinguanti io sono dipendente dell'ex dei papiri diciamo ad oggi verrà assorbito dall'ex diciamo nostro sembratore di lavoro Carrefour che riassorbirà tutti i 98 dipendenti che ci sono all'interno della struttura e verso la metà di aprile riaprire i miei battenti ai clienti tu sei fermato dal lavoro e quindi riprenderai a lavorare? Allora noi siamo in cassa integrazione dal 10 di dicembre come i 1450 dipendenti dell'Ali Group che siamo in attesa anche di cassa integrazione penso che i miei colleghi già abbiano fatto una sintesi di tutta la situazione però risultiamo sempre senza stipendi da settembre 2012 con qualche acconto che uno può tirare avanti la cassa integrazione non è ancora autorizzata da parte del ministero del lavoro e intere famiglie che ad oggi si trovano in grosse difficoltà le istituzioni sembrano che questa vicenda questa vertenza non la tengono neanche in considerazione però giustamente le domande che dovremmo fare sia a livello comunale sia a livello provinciale che regionale visto che sembra che qualcosa sulla regione sicilia sta cambiando qualcosa ma in realtà per queste famiglie che devono portare avanti i propri figli e pagare determinate cose a livello di mutui e aspettanze varie una risposta gliela devono dare i fondi non ci sono più da qualche parte i soldi devono uscire abbiamo fatto vari appelli compreso quest'ultimo che stiamo facendo stamattina ma nessuno dà risposte certe sul futuro ma almeno per tirare diciamo avanti nei prossimi giorni con un po' di tranquillità niente certezza quindi niente no certezze certezze si sono fermate a settembre del 2012 quando sembrava che subentrasse la coppia a livello regionale e tuttora questa coppia sembra che c'è sembra che non c'è e per loro per le ex delinguanti non c'è nelmeno la speranza perciò i signori politici che ad oggi diciamo hanno fatto le belle figure davanti alle televisioni davanti ai giornali adesso ce n'è un bel po' a livello di Siracusa che sono saliti alla Camera e al Senato io spero che veramente incominciano a preoccuparsi di queste famiglie e di spendere qualche parola anche per loro vostro ultimo appello dopo il giro che lei ha fatto con i nostri colleghi e ha visto la drammaticità in cui siamo malmessi non bemmessi rifacciamo l'ultimo appello di speranza con Sua Eccellenza il Prefetto di Siracusa che si era mobilitato ad accelerare la pratica della cassa integrazione noi col cuore in mano gli diciamo a Sua Eccellenza che vedo un po' di darci una mano più possibile perché veramente siamo con l'acqua alla gola e siamo diciamo ormai allo spiraglio della nostra esistenza vedo un po' se al limite della cassa integrazione se la portano un po' più a lungo se ci può fare avere qualche qualche diciamo contributo straordinario da parte di qualche ente perché questa situazione ormai è insostenibile insostenibile perché le bollette ti arrivano ti arriva la tassa della televisione ti arriva il bollo dell'auto ti arriva quello ti arriva quell'altro le bollette arrivano però le risposte non arrivano e quindi se uno si deve comportare su un filo di legalità un filo di speranza visto che gli altri ancora hanno fatto la parte sorda su questo argomento di sopravvivenza perché ormai siamo alla sopravvivenza all'estrema sopravvivenza mi auguro che su eccellenza inviti un po' qualcuno ad alzare il caso a meno quanto che a Dac in un breve periodo guardi abbiamo bisogno di una di un contributo non possiamo aspettare questa cassa integrazione anche se lui l'eccellenza ha detto che si interessa ad accelerare la pratica ma a meno passano altri tre mesi noi non percepiamo salario da settembre è insostenibile per qualsiasi essere umano se ha una famiglia in particolare a controllarsi la mente perché stare in una famiglia avere delle problematiche di casa e non portare soldi per nove mesi io sfido qualsiasi cittadino tranne che uno non vuole fare una vita legale non vuole fare una vita dignitosa non lo so non so che pensare l'ultima l'ultima diciamo speranza con sua eccellenza il prefetto che veda un po' almeno che accelere qualcosa per noi perché veramente siamo al disastro solo l'eccellenza il prefetto può garantirci qualcosa perché gli altri non credo più a nessuno